Abigail tesoro, raccontami, com'è andata ieri sera? Beh, diciamo che non così bene, perché ieri è successo un casino, uno scandalo! E com'è mai? Raccontami! Allora, tutto colpa del figlio della signora Maria. Di chi? Di Alessandro? Sì! E perché? Che cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha fatto tutto quello che non doveva fare in casa, in una casa decente. Vabbè, Abigail, al punto. Cosa ha fatto? Immagina che ha cominciato a ballare con una ragazza. Aha. Beh, questo ha fatto di tutto tranne che ballare. Ma perché? Non era un ballo? Allora cosa era? Mamma, sembrava tipo una pornografia, sai? Questi balli da adesso, twerking. Mamma mia, questi ragazzi da adesso, mamma mia. Sì, mamma, è proprio una generazione persa. Ma che c'era Maria? C'era la mamma che lo guardava? Sì, la mamma c'era. Era incazzata nera, incavolata nera. Immagina che lui la prendeva di qua, di qua. E praticamente ad un certo punto a questa ragazza gli si alza la gonna. Ah, no! Mamma mia, tutto il sedere da fuori. Mamma mia, una cosa del genere non si può proprio vedere. Che schifo! Eh sì, proprio schifo. Ma comunque poi lo hanno cacciato via a lui insieme alla ragazza. Hanno fatto proprio bene, proprio bene. Sì, hanno fatto proprio bene. Dimmi una cosa, Abigail, ma chi era la svergognata che ha fatto tutto questo casino? Ero io.